Cari sorelle e fratelli di Bulgaria, con l'aiuto di Dio, tra pochi giorni sarò tra voi. Venire in Bulgaria sarà per me e per i miei collaboratori un pellegrinaggio nel segno della fede, dell'unità e della pace. Infatti, la vostra terra è patria dei testimoni della fede, fin dai tempi in cui i santi fratelli Cirillo e Metodio disseminarono il Vangelo, una semina feconda che ha portato frutti abbondanti anche nei periodi difficili del secolo scorso. Lo ripeteva spesso San Giovanni Paolo II, che tanto si è prodigato perché l'Europa riscoprisse la forza liberatrice di Cristo e anche perché potesse riprendere a respirare con i suoi due pulmoni. Sulle sue orme avrò la gioia di incontrare Sua Santità, il Patriarca e il Santo Sino della Chiesa Ortodossa Bulgara. Insieme manifesteremo la volontà di seguire il Signore Gesù nel cammino della comunione fraterna tra tutti i cristiani. Carissimi, il mio pellegrinaggio sarà tutto nella memoria del Santo Papa Giovanni XXIII, che nei quasi dieci anni trascorsi a Sofia come delegato apostolico ha creato col vostro popolo un legame di stima e di affetto che dura tuttora. Egli è stato uomo di fede, di comunione e di pace. Per questo ho scelto come moto del viaggio il titolo della sua storica enciclica Pace in Terris, Mirna Semiata. Vi chiedo, per favore, di accompagnarmi con la vostra preghiera. Grazie Dio conceda pace e prosperità alla Bulgaria.